vi faccio vedere adesso come congiungere un dyneema al nailo due nodi uno piuttosto diciamo più semplice e uno molto complicato chiaramente molto complicato vuol dire anche massimo della tecnologia massimo della perfezione iniziamo subito da quello però un pochino più più semplice che molti sicuramente sapranno anche fare ma che altri no e quindi è giusto presentarvi anche un nodo valido per congiungere il dyneema al nailo innanzitutto prendiamo il nylon in questo caso c'ho il nylon dello 030 tatan kevo silver e qui c'ho il viral che è un dyneema dello 014 in questo caso quindi congiungerò 14 con uno 030 piego il nylon come vedete da una piegatura lascio circa 25 30 cm introduco il dyneema all'interno del dell'asola che mi si è creata tiro un po il dyneema una trentina di centimetri e tengo in tensione i due capi del nailo a questo punto ruoto il dyneema per 8 9 volte verso la mia sinistra con le spire possibilmente tutte attaccate ora parlando ho perso il conto comunque se si arriva anche a 10 va benissimo uguale una volta arrivata al numero di 8 9 10 sommonto il dyneema e procedo con realizzare delle spire dalla parte opposta quindi verso la mia destra in egual numero come all'andata quindi se all'andata ne ho fatte 8 ne faccio 8 a ritorno se ne ho fatto 9 9 10 10 sempre cercando di tenere in tensione il dyneema arrivato al numero vedo da che parte esce il dyneema dell'asola e io devo introdurre questo capo dalla parte opposta vedete mi esce verso il basso e allora io introduco questo capo dal basso verso l'alto così posso anche collegare i due fili con un po di saliva lubrifico e scorro leggermente il le spire verso il capo finale poi con la bocca agguanto il capo libero di dyneema senza tirarlo però solo per dargli un angolo di 90 gradi e vado a tirare invece il dyneema della bobina sino a serrare il tutto a questo punto con un taglierino sempre che ripeto è l'attrezzo migliore per tagliare perfettamente nail e dyneema perfettamente taglio il dyneema taglio lo spezzone di nailo chiaramente senza allargarlo e lo taglio proprio al pari questa è la congiunzione che sarà finita con una goccia di cianacrilato utilizziamo sempre lo stuzzicadenti tengo in tensione una leggera pressione il tutto e con una goccia di cianacrilato una spruzzata sempre a circa 30 cm di attivatore e la congiunzione è fatta è una congiunzione che si può effettuare con qualsiasi diametro di dyneema e nailo quindi si può utilizzare la traina si può utilizzare nel feeder si può utilizzare nella pesca dalla barca nello spinning dove necessita congiungere un dyneema al nailo tiene tantissimo e è veramente minimale quindi passa bene all'interno degli anelli ora amici vi farò vedere il top dei nodi di congiunzione fra dyneema e nailo il top dei nodi con il top delle difficoltà a realizzarsi le difficoltà non tanto nel capire il meccanismo nella manualità poi a realizzarlo allora io l'ho imparato me l'ha insegnato un francese circa 20 22 anni fa un amico francese tra l'altro e è un nodo che io onestamente non ho mai visto da nessuna parte lo utilizziamo noi a livello nazionale e l'enza emiliana nella canna tante ma in giro è una congiunzione che io non ho mai visto quindi mi sento di proporvelo oggi a voi ripeto molto complicata nell'esecuzione non tanto nel capire passaggi ma proprio nel realizzarla materialmente comunque vedremo e cercherò di spiegarvela nel miglior del modo come vedete ho un assistente Liviu un nostro magazziniere in azienda che è curioso anche lui perché gliel'ho fatto vedere diverse volte eh Liviu è complicato il risultato è eccellente però complicato allora Liviu mi dà una mano vedete già pratico deve agguantare con due o tre giri il Dai Nima col capo libero nella mano sinistra poi questo lo apriamo e avvolge su e si realizza una V lato destro lato destro la bobina del Dai Nima lato sinistro lo spezzone diciamo libero questo io a casa ad esempio lo realizzo ho una sedia con due pomelli allora fisso la parte sinistra con un nodo scorsoio al pomello di sinistra e qui realizzo quattro cinque mezzi colli per tenermi la V perché è importante che si realizzi questa V è una congiunzione che sto utilizzando gli stessi diametri di prima quindi 014 Viral 030 Tatanka Evo Silver si parte dal Nilo si introduce dal sotto dal basso verso l'alto alla V Liviu va leggermente più indietro leggermente più indietro ecco ci deve essere la distanza giusta e questa è l'apertura ottimale una volta introdotto il Nilo dal basso verso l'alto si tira fuori circa 30-35 cm si afferra indice e pollice e si comincia a realizzare delle spire una due tre quattro cinque ecco in questo caso dopo cinque possiamo mollare e tenere in tesa e poi ricordiamoci da dove siamo partiti sei sette otto nove dieci undici dodici tredici quattordici quindici le spire cercate di farle sempre col portando il Nilo verso voi 16 17 18 19 diciamo che le spire ottimali vanno da 18 a 20 massimo portiamo leggermente senza forzarlo troppo il Nilo verso di noi qui vediamo un intreccio un intreccio di Dainima sul Nilo agguantiamo qui stretto prendiamo il Nilo dall'alto verso il basso sul lato destro facciamo un mezzo collo un mezzo collo e porteremo qua all'attaccatura senza tirare verso di voi è solamente veramente una pressione minima a questo punto allentiamo leggermente la presa riportiamo il Nilo verso verso la verso Dainima e dobbiamo tirare solamente il Nilo se ti fa clic il clic è il Dainima che sommonta il Nilo che si attorciglia il Nilo perché il Nilo essendo un mezzo collo quando va in tensione ruota il Dainima e il Dainima si avvolge a quel punto al Nilo che farà da cuscinetto a questo punto Livio mi agguanta tutti e due i fili paralleli io qui posso tagliare prendo il capo di Dainima e realizzo quattro passaggi verso di me entrando dentro l'asola che si è creata a questo punto con l'indice cerco di far scorrere uniformemente senza cavallamento di spire ripeto è un nodo che la praticità qui la manualità la fa da padrone e poi una volta che si stringe ferro vado a tagliare la parte di Dainima il segmento temi l'intesa di più vado a tagliare proprio al pari più possibile occorre un tagliaunghe che tagli veramente bene a questo punto prima di tagliare lo spezzone di nylon prendo un goccio di scianacrilato l'onnipresente stuzzicadenti e vado a posizionare una piccola quantità di scianacrilato sul nodo e sul sull'attaccatura del nylon è solamente per questo questo scianacrilato serve per non far mollare quelle quattro spire che ho fatto alla fine una spruzzata ruotando di attivatore in modo che si secchi perfettamente poi vado a tenere in tesa da Dainima e nylon e vado a togliere la parte in eccesso di nylon tagliandola proprio al limite in modo che non mi crei nessuno scalino allora il risultato è fantastico perché a differenza dell'altro dove io in questo punto qua ho il nylon doppiato in questo caso ho il nylon singolo che mi entra praticamente dentro una spira di Dainima e quindi non ho assolutamente il minimo scalino né davanti né nel lato posteriore teniamo presente che lo shock leader la parte diciamo di nylon è quella che esce durante il lancio quindi qui in questa parte più aerodinamico è migliore sarà la resa nel lancio è minore anche le parrucche perché spesso il Dainima se accoppiato male al nylon crea degli scalini che tendono a portarci fuori il Dainima soprattutto se è sottile sottile intendo 08 10 12 in questo caso non abbiamo veramente nessuna protuberanza tutto liscio perfetto come tenuta 100% perché praticamente non è un nodo che strozza né il Dainima né il nylon questo amici è il top il Dainima è un'altra